Sono partiti i lavori qui in Viale Regione Siciliana per la pulizia e la strada, ci sono tanti operai in questo momento in azione ma come vedete alle mie spalle si è formato il traffico che sta lasciando scontenti molti palermitani. Sono gli interventi straordinari previsti dall'amministrazione Orlando, 141 operai di Reset, AMG, RAP, AMAP del settore verde e dei vigili che divisi in tre squadre si stanno occupando di rimozione dei rifiuti, manutenzione del verde, pulizia delle caditoie, riparazione dei punti luce nei 12 chilometri che collegano le due autostrade, quella per Catania e quella per Trapani. Oggi, secondo giorno dei lavori, si può notare come i risultati della pulizia siano davvero positivi. Ottimo lavoro, quindi peccato però che i tre punti nevralgici dei lavori abbiano creato lunghe code e il conseguente malcontento tra gli automobilisti. Ma io sto venendo da fuori e sto impegando il doppio del tempo per arrivare dove devo andare. Dovunque lei voglia andare arriverà in ritardo. Sempre. Da quanto tempo è che è in fila? Più di un'ora. Due ore, due ore. Già quasi tre ore di fila. Voi dovete lavorare, però arriverete in ritardo sicuro. Certo, sicuramente porteremo molto in ritardo. Perché la gente che non può arrivare al lavoro la sera, mi sa che porta copertone a casa per mangiare. Il calendario dei lavori continuerà domani dalle 8 alle 14, quando le squadre opereranno da Bonagia a Largo delle Tortore, da Carlata Fimi a P3, da Lazio a Belgio. Infine venerdì, giornata conclusiva dei lavori straordinari, vedrà coinvolto il tratto che va dal ponte Belgio all'inizio dell'autostrada a direzione Trapani. Grazie. 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 Grazie.